E voltiamo pagina e parliamo di una bellissima iniziativa che ha preso il via proprio ieri sera. Mi riferisco alla sesta edizione di Inferenze Short Film Festival. Stiamo parlando di ben cinque serate di proiezioni nel Museo Archeologico dell'Antica Nola, con opere provenienti veramente da tutto il mondo. Ne parliamo questa mattina con il nostro prossimo ospite odierno, e il buongiorno Massimo Piccolo, direttore artistico della Kermess. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli spettatori. Inferenze Short Film Festival, riflazioni dal reale, è sbarcato quindi a Nola per la sua sesta edizione. Ci farà compagnia tra l'altro fino al 27 ottobre. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono innanzitutto la location. Abbiamo una location meravigliosa. Io invito davvero tutti quelli che ancora non hanno visitato, a prescindere dal festival, venire a Nola, a vedere questa location, questo museo che regala tantissime emozioni. Ringrazio anche il direttore Giacomo Francese che ci ospita, perché è veramente una bellezza a prescindere dalla bellezza dei cortometraggi che stiamo proiettando. Il progetto, quindi, organizzato dall'Associazione Culturale Luna di Seta, è realizzato con il sostegno dall'altro della Film Commission Regione Campania. Siamo uno dei festival della Film Commission Regione Campania. L'organizzatrice è Valentina Sodano, che lavora tantissimo, molto più di me, a questo festival, perché io come presidente e autore sono anche impegnato in altri fronti. Stiamo lavorando su Laila adesso, che ci sta togliendo il sonno, però è una cosa bellissima. E c'è anche un patrocinio del Comune di Nola. Quest'anno, tra l'altro, testimonial d'eccezione, il grande Peppe Lanzetta, che salutiamo. Che cosa restituisce questa Kermess, oltre chiaramente al suo reale ed enorme valore artistico? La bellezza, la possibilità di concentrare la bellezza non soltanto in opere costosissime, anche se ospitiamo opere che costano davvero tantissimo, ma anche in piccoli gioielli. Ed è un discorso che io faccio spesso con Peppe, con Lanzetta, che oltre ad essere testimonia, siamo amici di lunga data, abbiamo fatto diverse cose insieme e ne faremo altrettanto. Facciamo gli auguri per Partenope, sta andando benissimo. Esatto. Tutti quelli che l'hanno visto sono entusiasti della sua performance e noi siamo felicissimi di questa cosa. Proprio da oggi al cinema? Sì. Quindi andate prima a vedere... No, stasera no. Stasera no? Questa sera veniamo? Prima nel pomeriggio andate al cinema, poi venite al festival e dopo potete tornare. Tanto dura un'oretta e mezza il festival. Ah, c'è tutto il tempo per fare entrambe le cose. E diciamo la bellezza di questi cortometraggi. Ieri proprio abbiamo proiettato uno di, neanche tre minuti, di una scuola di Calabrese, ma di un tocco, di una leggerezza che hanno affrontato un argomento serissimo come l'omertà costretta, subita. E noi di solito non facciamo questo tipo di... non ospitiamo questo tipo di progetti, perché il nostro è un festival sull'inferenza, sul pensiero complesso. Loro sono riusciti a raccontare un dramma in maniera divertente, non retorica, sfruttando il pensiero complesso. Quindi è stato bellissimo averli. Come un film vietnamita anche, è stato davvero molto molto bello, ragazzino vietnamita. Adesso mi entusiasmo e ve li racconto tutti, però non abbiamo tempo. Ci sarà anche tantissimo, chiaramente, lavoro dietro alla scelta. Sì, e lì è Valentina Sodano, che ringrazio ancora di nuovo, perché lei è la prima scrematrice di tutto. Noi abbiamo una giuria quest'anno d'eccezione, no, meno soltanto il presidente, che Cesare accetta, che è un grandissimo, che ringraziamo, ma poi tantissimi esperti del settore. E quindi poi loro hanno il compito un po' più semplice, perché allora arriva la scrematura già. Invece tutto il lavoro fatto in redazione è davvero lunghissimo, siamo intorno ai 300 cortometraggi da tutto il mondo. È molto molto complicato, però è un bel lavoro, sono belle soddisfazioni. Quindi alla base di questa kermess c'è sicuramente la voglia di avvalorare un pensiero critico, come tu ben dicevi. Complesso. Complesso, davanti alla cultura un po' anche del banale. La retorica del banale che è peggio della cultura del banale. Noi siamo sommersi dal banale, è proprio una lotta che noi facciamo da sempre, perciò abbiamo inventato questo festival, che poi riproponiamo un po' in tutte le cose che facciamo. Diciamo che il nostro obiettivo, la nostra matrice è proprio questa, cercare di portare la complessità, che non vuol dire difficoltà, significa semplicemente non fermarsi solo all'apparenza delle cose. Fermarsi all'apparenza è molto semplice e molto gratificante, perché quando andiamo oltre l'apparenza dobbiamo fare conti con la realtà vera e anche con tutti i nostri limiti personali e di esseri umani. Adesso mi verrebbe da, io ho un problema perché parlo troppo, però se noi... Non è un problema. Perché ci conosciamo poco. Se adesso per esempio sarebbe interessante parlare, il complottismo cos'è? Il complottismo è la risposta semplice e banale a dei problemi molto complessi. Io non sono in grado di accettare la complessità di una realtà e creo un complotto, che può andare dalla terra piatta, che adesso si porta tantissimo di nuovo, che poi è una cosa recentissima, fino a 800 questa idea della terra piatta, che solo uno ce l'aveva, adesso non si può aprire internet che siamo pieni di queste cose, e ci rendiamo conto che abbiamo perso proprio la capacità di pensare in maniera complessa. Io non so se ti capita di girare un po' sulle foto, oppure su Facebook, ci sono tante immagini fatte con intelligenza artificiale, che vengono spacciate per reali, ma immagini palesemente false, tipo la ragazza stratruccata che sta in un campo che dice nessuno mi metterà like perché non sono bella come Jennifer Lopez, e in mano c'è una fragola che è grande, quanto una palla da regga. E le persone abboccano a queste cose, come questo poi abboccano a tante altre cose, sono manipolate. Il sottotitolo scelto per questa sesta edizione, Riflazioni del Reale. Sì, perché il Reale a volte può essere compreso meglio attraverso le sue riflazioni. Non ci fermiamo soltanto a uno sguardo, vediamo tutte le sfaccettature che ci sono. E questo a me capita di fare delle masterclass di scrittura, e quello che dico sempre alle persone che partecipano a queste masterclass, tra un po' uscita un'antologia realizzata con i ragazzi del Serao, che è stata un'esperienza bellissima grazie al progetto vinto con il bando della SIAE, con Roberta Dovidio, ringrazio anche lei. E lì i ragazzi proprio sono spinti a fare questo. Il mio modo di scrivere è anche questo, togliamo tutto quello che non è necessario. Questa è la grande lezione che ho preso, non è mia, è di Carver. E togliamo tutto il non necessario, fermiamoci al necessario, concentriamoci sul Reale e su tutto quello che sta intorno al Reale, che non significa rinunciare ai sogni, o rinunciare al romanticismo, o rinunciare a queste cose. Niente è più reale di una serata romantica, se la si vive però con uno spirito critico. Quest'anno saranno poi proiettate anche opere con protagonisti di primordine, direi, come Bella Ramsey. Cosa puoi anticiparci proprio delle prossime serate? Allora, gli antici sono solo venite alle prossime serate. Ogni sera c'è qualche volto stranoto. Ieri sera avevamo la Crescentini in un cortometraggio. Avere poi una delle protagoniste, il Trono di Spade, che faceva una parte strana, sono un grande appassionato del Trono di Spade, come tutti quelli che lavorano in questo ambiente. E vederla e misurarsi su un'altra cosa è divertentissima, è una cosa molto molto bella. Ma noi fin dalla prima edizione siamo stati fortunati. Noi abbiamo ospitato il cortometraggio con la protagonista Miriam Leone, che ha portato, prima che la serie che tra un po' uscirà sulla Fallaci, quello era un cortometraggio e noi l'abbiamo trasmesso nella nostra o prima o seconda edizione. Quindi stiamo sempre anche alla ricerca di queste cose, poi ci va pure bene perché ogni tanto abbiamo queste soddisfazioni. Ci sta. Altri ospiti nel corso delle varie serate? Domenica avremo, noi sempre sul Pensiero Complesso, avremo una cantante, una cantatrice napoletana che si chiama Marilena Vitale, che a me piace tantissimo. E la ospiteremo, ci racconterà qualcosa e magari ci farà anche sentire qualcosa. Domenica tra l'altro è il gran finale. Sì. Che cosa ci aspetta oltre questa sorpresa musicale? Una sorpresa con Peppe Lanzetta perché non so ancora la quale sarà, però quando Peppe ed io facciamo qualcosa sicuramente c'è qualcosa che nasce. L'abbiamo fatto l'altra settimana in una di queste masterclass a Ponticelli, tra l'altro un istituto bellissimo che non conoscevo, il Calamandrei, dove con Nando Pavone e Peppe Lanzetta abbiamo parlato di Troisi. E Peppe Lanzetta a un certo punto ci ha regalato una sua poesia inedita e ce l'ha proprio recitata, ha fatto unire brividi, a parte a me, ma tutta una platea, 300-400 ragazzi erano incantati. E' veramente un bellissimo momento. Siete giunti ormai alla sesta edizione di questo festival. Che cosa ti auguri per il futuro? Allora, dalla settima edizione spero una continuità nel posto. Prima la facevamo a Pomigliano, abbiamo avuto molti problemi a Pomigliano perché l'amministrazione ha pensato di puntare giustamente su altre cose, quindi ci siamo spostati a Nola, dove siamo stati accolti davvero benissimo. Quindi spero che da adesso la nostra casa sarà a Nola perché avere la continuità in un posto è fondamentale. E' importante per un festival. Sì, sì, sì. Anche per noi, pure perché poi dopo devo andare al festival, sbaglio da un'altra parte, sono una persona distratta, quindi ho bisogno di riferimenti precisi. Sì, non te lo ricordi, ritorni a Nola e quindi... Sì, almeno vado sempre là, voglio imparare a parcheggiare in un posto, parcheggio sempre lì, però quando faccio la spesa sono fatto così. E al di là del luogo? Al di là del luogo mi aspetto che veramente questo pensiero venga sempre più diffuso e che si possano cominciare a fare delle cose anche con gli istituti, con le scuole del posto. Sempre credibilmente perché noi abbiamo una politica molto precisa, quando facciamo le cose con le scuole, le scuole non devono mai chiedere soldi e ne far uscire soldi. Tra l'altro faccio troppe cose, perciò poi mi confondo. Come l'Una di Sida abbiamo anche vinto il Cips, questa è forse una delle poche realtà campane che hanno vinto il Cips al Ministero, tra l'altro piazzandoci 34esimi in questa classifica grandissima. È un bel risultato questo. È un risultato veramente sbalorditivo, perché quest'anno veramente era tosta. E quindi noi continuiamo sempre a cercare di fare, senza voler fare retorica, a lavorare con i ragazzi, con i professori, ma anche con tutti gli altri. Perché è facile, in un certo senso, è gratificante lavorare con i ragazzi, per il semplice fatto che quando fai una cosa già sai che c'è la platea piena. Però così è facile. A me le cose facili non piacciono. Però mi piace poi riuscire con delle masterclass, con delle cose, a far capire anche, a provare a far capire che ci sono anche altre realtà. E poi lavorare oltre alla performance. Ormai siamo la società della performance. A me interessano più contenuti che la performance. Per fare un racconto, questi ragazzi che stanno facendo questa antologia hanno capito che per scrivere un racconto di tre pagine si possono volere anche sei mesi. Io ho passato tutta l'estate con questi ragazzi tramite mail, perché far capire cosa significa effettivamente creare un racconto non è una cosa semplice. Assolutamente no. Io voglio ricordare insieme a te l'appuntamento, quindi da ieri sera fino a domenica con Inferenze Short Film Festival, che quest'anno chiaramente si trova, come abbiamo detto, al Museo Archeologico dell'Antica Nola. Io ti ringrazio veramente di essere stato in questa compagnia. Grazie a te, grazie a voi, grazie a voi che ci avete ascoltato. Grazie quindi al direttore artistico della Kermess, Massimo Piccolo. Piccolo Burek.